Ciao a tutti e finalmente siamo ritornati su Torfis Quest, però stavolta siamo su Videomemes Quando ti ho passato dall'ultimo Videomemes, dall'ultimo Torfis Quest Due canali, più o meno, ok andiamo al gioco, vediamo un po' com'è questa roba Ah ok, siamo già sullo spazio, dobbiamo buttare, ah mi dici tu cosa fa, va bene, va bene, va bene Ma perché ha bevuto, credo che gli faccia un po' schifo la roba dalla faccia, e adesso? Sì vabbè ma se ti scorreggi nella tuta però, fai un po' di aria Aspetta dov'è che sei nello spazio, ah no, fa meno, fa meno, non ti ho detto niente io eh Perché sono davanti a una mela legato? Non lo so Ridi, ridi, vabbè, che devo fa? Non lo so Cosa? Ma se 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 Ehm, come mi lavo la faccia adesso? Che cosa devo fa? Boh Oh, non lo so, ho tirato giù così Ah, devo spellarla Ehm, che c'è da ridere? Ricordate, spellatevi sempre se volete essere delle persone strane qua Che c'è? Una nutria geneticamente modificata Io non ho mai visto un nutria così E un E un umano nutria Che cosa fa? Boh Io sto toccando dappertutto, non mi dice niente Ok, capisco tutto, capisco l'hutter, capisco, ok, capisco Ma perché? Capisco, capisco addirittura quello lì che sta giocando col mini Game Boy Capisco Capisco anche quello con l'Xbox One Ma Ma Questa? Perché c'è? Non so, vedevo delle zampe dietro, dietro la TV Da quanto è che non fate le pulizie di casa? Ora Vediamo Oddio, ho tolto un'immagine da un cartello Sono, sono diventato Sono, come si chiama? Sono diventato Dynamo Posso capire Ok E ora Non so, giochiamo un po' all'Xbox No, giochiamo un po' al libro, neanche E Quanto è, quanto è, quanto è vecchia sta cosa? Quanto è vecchio la Rami Shake? Quanto è vecchio? Ora Ora C'è un tipo col telefono E' una tipa che Apparentemente è incazzata Che Non credo di Garby Boh Tocca Tocca Non so, io sto toccando, beh E basta E vola E che sta succedendo in questo mondo? Non so Vetezda Ah, no, non ha fatto la Bethesda Allora va bene E ora? Credo di aver capito Ok Chiudi, chiudi il cestino Chiudi il cestino prima che torni fuori Tipo i ragni Tu Quando li chiudi in un barattolo Chiudi subito il barattolo Altrimenti scappano fuori Un video Ah, non è la pubblicità È un video Proprio il gioco Che è un video Ah Ah Sto toccando gli elefanti Sì, sì Hai rotto le scatole Hai rotto Ok Questo è il vero documentario Quello che non vedete nei documentari Lo vedete qui Si è tolto Credo Si è tolto Si è tolto di proposito Tipo To, guarda come Cagano gli elefanti Ecco qua Avete avuto un video Spiegazione Di come cagano gli elefanti Ah, è vero qual tizio Il tizio che voleva Frullare l'iPhone Perché i frullati di iPhone Sono ricchi di proteine 310 Ho toccato Ho toccato lì Non so Ho venuto fuori Il 310 Ora ZX60 Non so Sto toccando in giro Vabbè facciamo qua Ah, gli è scivolato l'iPhone Che peccato Accendiamo il frullare Sta venendo un ottimo frullato di esplosione Però il 310 è intatto Intatto Quindi Le leggende sono vere Qui c'è un titolo Con una saponetta Molto sospetta Non andare mai in giro Con le saponette Apro l'acqua Chiudo l'acqua Old troll Vecchio troll Apriamo Quanto tempo è passato Quanto tempo Ma quella là è la stanza Dello spirito del tempo Dove ti alleni Per diventare Più forte Perché Non riesco a capire Perché c'è il cavallo Però Non credo che Scompagnano Non credo che Compaiano anche I cavalli Sono tutti girati Che guardate a me E' di l'alte Andro Boh Tocchiamo Capelluto Cuoio capelluto Allora è un cubo Con Cos'è È un cubo Con una chitarra Che Tocchiamo In giro Questo Non so È il primo che ho trovato Che che Ah si è girato Troll 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 Trollian Sì sì Quello lì Mi avete presente chi è Ma Cosa ridi E te Anche te O tutti che ridono Qualcosa andrà a ridere Che ci sono in questo teatro Qui Tocco tutti e tre No ho toccato la vecchia O almeno La Lyric Tutti Allora Gli altri due No gliene Frega Va per un Cazzo Ma Fate Qualche Volete Dove era la gallina Ho premuto Tasti Che caso Qualcuno Qualcuno Mi può Spiegare Dritta Ah Ho premuto Ho premuto Il tizio Quei che sembrava Tipo Assassin Crider Quello Me non sospetto Anche se Non è un balessa Dietro la schiena Non ti vedono Divertentissimo Mi raccomando Guardate la varietà Del testo Della canzone Proprio Il Alle top Delle classifiche Di tutto il mondo Anche dell'Iran E questa l'ho vista Dai ho visto Delle zampe di gallina Fuori uscire Da un cactus Almeno Non penso che i cactus Inglobino le galline O almeno Non in Italia Ah Quattiglito Cosa devi fare Adesso E mo Ho continuato Ho continuato A premere Finché non Finché anche il bambino Avendo un cervello minuscolo Non abbia capito Che devi mordere Quella faccia di Cioè Devi mordere il dito Ora qua c'è un C'è il classico Barbo I pro I pro Da quanti i prozioni Hanno le pistole Si sono evoluti Avanti Vai al cestino Eh Chi Cosa Cos Ho tirato Su la testa Abbracciamosi Adesso è diventato Tu un nuovo Quinquilino Con cui pagherei Le tasse Per sempre Apri lo sportello Apri lo sportello Ho detto Devo fare lo sgambetto A qualcuno Tocchiamo Il primo che c'è Troll Il primo che c'era L'ho preso in calcia Ma è fatto di titanio Che non gli ho ancora Spaccato la testa Con un calcio Adesso vai piano Ah mamma Beh bravo Adesso Andiamo su allora Piano E si è buttato su diretto Solo tu che basta Piano No Si si scaraventa Ah la gallina Non l'ho vista Non l'ho vista Dritta Eh ci avevo capito Che dovevo fare così Boh Si si era malta Si era malta Anzi Io vado piano eh Piano Ho il dito Ho il pollice in mezzo Non vedo nulla Sta andando bene Non si può Arrabaltare qua vero Su 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 Eh si Sto giochere Nando In modo ambiguo Ah ah Allora che sarebbe Fatta E qui c'è Ah qua c'è Milena Sairus Giusto Su Adesso non lo fai più eh Credo che sia un trauma Quando ti passa un meteorite Vicino alla faccia Ma va bene Qua c'è Ah il solito spaccino Vicino al mezzo Trovata anche qua La gallina A 5 5 su 10 eh Minchia Siamo veloci Tocchiamo Cosa ridi Tira fuori la pistola Ho capito l'ordine Ah Sto toccando Non so Tocco l'hamburger Non viene giù Aspetta Ok 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 Adesso tocco l'ordine Tocco l'ordine No 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 E' andato via E' andato via E adesso Basta così Non devo farlo parlare No non parla Ti prego Cosa hai detto Questo qua Non ci sarei mai arrivato Chiudi Eh appunto Io sapevo che cadeva Prima o poi Perché Siamo su Cleo Makeup Adesso Allora Che succede Ah si può spostare Perché c'è una bottiglia di vino Vino No Si può spostare Si può spostare Si può spostare Si Stavo spostando Stavo spostando Gli è arrivata una badilata in fazza Già Justin Bieber È la versione iraniana di Justin Bieber forse Sappiamo tutti cosa fare vero Lo sappiamo Lo sappiamo Lo sappiamo Lo sappiamo Vai No non ho sbagliato Non va più Due tre Due tre Ma Ma vuoi su una capra Funzionerà Non so Vediamo un po' se i visualizzati Sagono Non riesco a distinguere l'originale Esattamente Qual è l'originale adesso Non lo distingo più È Super Mario Troll Mi sembra di averlo già visto Vediamo un po' Ha un granchio che scappa Fate cambio Ah ho fatto cambio con lui Vediamo un po' chi Chi gioca adesso Dai Dai Non si rompe Non si rompe fatto di Di cosa Eh si è spaccauto la testa Non letteralmente Ma mentalmente Perché siamo di nuovo su Lo siamo Eskitchen credo Eh si Guardate come taglia Taglia Li taglia a caso Così Non va bene tagliarla a caso Butta butta tutto qui E mo Si Ti tocco Ah Che schifo Ah E questo qui sarebbe una versione Tipo Troll Gonsar Ramsey L'ho inventato al momento Non c'era scritto Accendi No No Cambia E questo qua che cade E questo qua che perde fuoco Il mini Buddha là sopra Si tipo Ha diventato Non so Ha diventato La super divinità Che ti spacca la bo E ho preso martellata Da tutte le parti Non so Sto qua in casa Aveva i guanti Che escono dalle Dalle pareti Ti prendono a pugni Automaticamente Non so se Non so se è una rapina Uno spazio Non so nemmeno io Tocco il capello Ah Gli ho strappato gli occhi Gli ho strappato Gli ho strappato i capelli E il capello Gli ho strappato la barba E va Oh mio dio Sono una persona orribile E adesso L'ho trasformato In una merda Il miglior mago Di tutti i tempi Ti trasformo In una merda Si è diventato una merda Devo Devo spammare Ok Il classico giochino Del Sappiamo tutti Com'è andata quel giorno Uno dei I periodi d'oro Di youtube Quando si spaccavano I computer Con un pugno Il miglior periodo Di sempre E la gallina Dietro le spalle Ah E adesso Faccio cortocircuito Anzi no Tira su Tira su qualcosa Fai qualcosa Lo sto Sto tocando in giro REC Ed è finita La batteria Bravo Cosa posso fare Dritta Dove sei nascosto quello Ricevi dritta illimitate Devo sborsare Scanzare Besti Il bastone magico Il bastone magico Se è un gatto Bastone allunga Tiki Accendiamo REC Ora Ho aperto Ho fatto un pack opening E dentro il pack opening C'è un altro pack opening E dentro il pack opening C'è un altro pack Registriamo Cosa c'è E basta Che c'è Ah E' un bel pack opening Ok Questo qua era Trofis quest Non è finito Perché ce ne sono altri Ma Ho finito le dritte E devo smorsare Per comprare Quindi non credo Che le farò Oppure Andrò intuito E vediamo Un po' Cosa verrà fuori Mi fonderò il cervello Però Lo faccio per voi Dunque Spero che il video Vi sia piaciuto Non è Trofis quest Completo Lo Trofis quest Videomeme Scompleto Ma andremo avanti Più avanti Sicuramente Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che Continuerete a seguire Anche gli altri Ciao a tutti